Per il Costa Concordia siamo stati contattati per la fase 1, cioè l'ormeggio della nave nel porto di Pra, dal vaccino contenitori sulla diga foranea. Abbiamo fatto dei sopralluoghi, nel quale ho partecipato ovviamente in maniera personale, essendo stato uno dei coordinatori della parte finale del suo viaggio. Siamo intervenuti poi all'arrivo con otto rimorchiatori. Il servizio è stato fatto una bella mattinata di luglio, si è partiti molto presto all'alba e nel primo pomeriggio si è concluso tutto, senza nessun problema e in totale sintonia.